La solita burocrazia è un cavillo trappola della legge di stabilità che non consentiva all'amministrazione comunale di Tortorella di correggere un errore, quello di aver presentato un bilancio in rosso, mentre dopo alcune verifiche non solo i tecnici si accorgevano che non c'era il segno meno, ma addirittura il bilancio era inattivo di 60.000 euro. Conseguenza, il Ministero delle Finanze, recepiti i conti dell'amministrazione, ha provveduto a multare il comune per 174.000 euro, un vero e proprio colpo di mannaia sui 182.000 euro che il fondo di solidarietà elargisce ai piccoli centri. Una legge dal meccanismo assai perverso poiché consente di correggere il bilancio solo se il disavanzo è maggiore di quello dichiarato dall'ente, ma non il contrario. A questo punto il sindaco di uno dei comuni con il minor numero di residenti di tutta la provincia di Salerno, Nicola Tancredi, decide di combattere contro il dicastero di via 20 Settembre a Roma. Ci si rivolge al Tar del Lazio che però non si pronuncia sulla domanda cautelare, limitandosi a rinviare il giudizio con la fissazione dell'udienza di merito prevista per il prossimo 27 febbraio. Ma gli avvocati del comune Luigi Vuolo e Davide Ferrazzano non si arrendono e si rivolgono al Consiglio di Stato. E pochi giorni fa il piccolo comune, affacciato sul golfo di Policastro, vince la sua prima battaglia, vedendosi riconoscere dal Consiglio di Stato la domanda cautelare. In pratica si tratta della prima pronuncia in Italia di accoglimento della domanda cautelare in favore di un comune che viola il patto di stabilità, una sentenza destinata a far giurisprudenza.